Amici crociati ci siamo, manca pochissimo e il Parma inizierà finalmente questo nuovo campionato ai noi di Serie B speriamo veramente possa essere l'ultimo e possa essere il nostro anno della consacrazione dopo due anni veramente disastrosi speriamo incrociamo le dita, immagino che vogliate sapere quando inizierà Parma Game Pass, se ci sarà Parma Game Pass sicuramente quest'anno ci sarà Parma Game Pass, questo è poco ma sicuro ovviamente iniziare il campionato durante le ferie di un po' di tutti per noi è abbastanza deleterio maggiormente per il fatto che facciamo Parma Game Pass semplicemente come nostro hobby nessuno ci paga quindi lo dobbiamo fare perché ci piace farlo però ovviamente se siamo in ferie non possiamo metterci lì e registrare la partita insieme facendola live quindi probabilmente, anzi sicuramente venerdì nella prima partita diciamo ufficiale del Parma non ci sarà Parma Game Pass incrociamo le dita per poter iniziare la stagione la settimana prossima e addirittura potrebbero esserci delle novità, ragazzi stiamo preparando delle novità pazzesche veramente pazzesche quindi cosa vuol dire? Vuol dire che saremo allo stadio venerdì io quantomeno sarò allo stadio perché Daniel e Andrea sono in ferie io e Nicolò Pasta saremo allo stadio guarderemo la partita dallo stadio non ci saranno live o video dallo stadio bensì ci sarà fuori dallo stadio al termine della partita faremo un post partita io e Nicolò ovviamente chi di voi vorrà dire la sua a riguardo può passare ovviamente per un saluto probabilmente ci metteremo appena lì fuori lo stadio al termine della partita faremo poi il post partita di Parma-Bari quindi vi aspetto tutti quanti allo stadio almeno per la prima se non siete in ferie almeno per la prima di campionato dobbiamo veramente riempire il più possibile lo stadio Tardini incrociando le dita possa esserci una bella sonata non caldissima perché già adesso si soffre tantissimo sarà di sera quindi speriamo davvero bene quindi nel caso vogliate partecipare eventualmente al post partita mi trovate fuori dallo stadio quindi mi raccomando ragazzi venerdì no Parma Game Pass settimana prossima però si incominciamo con delle novità veramente veramente belle a iniziare da una nuova sigla avete capito bene nuova sigla che uscirà se Dio vuole settimana prossima ciao da Papirus e sempre Forza Parma